Oggi Beppe Grillo ha lanciato il cosiddetto terzo V-Day che si svolgerà a dicembre a Genova. Su questo abbiamo un contributo di uno dei deputati a Montecitorio del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Sentiamo che cosa ha detto. Oggi Beppe ha lanciato il prossimo V-Day, il primo dicembre tutti in piazza a Genova per andare oltre né destra né sinistra e provare a lanciare la cavalcata per le vittorie europee perché se riusciamo a vincere le elezioni europee per Letta li si mette molto 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 male e proveremo a costruire un'Europa dei cittadini e non delle banche e della finanza.